Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Cominciamo col dire innanzitutto che vi ringrazio per averci invitati noi russi nel nostro studio e vi possiamo farvi trasmettere quella verità che noi tocchiamo con le nostre mani, quindi grazie davvero. Innanzitutto al professore vorrei dire una cosa molto semplice, Putin non ha paura di nulla. Nel paese in cui lavora una quantità così grossa di mass media abbiamo un'enorme democrazia, di cosa state parlando? Perché qui la Russia dovrebbe avere paura, Putin dovrebbe avere paura della democrazia? Putin vi ha detto molto chiaramente, allontanate la Nato dalle nostre frontiere, non minacciateci, non mettete le basi, nessuno ha dato retta. Da otto anni, adesso vi racconto un po', da otto anni in Ucraina vi è un conflitto bellico, una cosiddetta operazione militare di distruzione della popolazione del Damasco, ma voi non vi avete fatto alcuna attenzione, però vi voglio dire che il buonsenso sento che comincia ad emergere, Tommaso, giusto? Olga, posso farle una domanda io però, democraticamente, ma un paese, lei usa la parola operazione militare speciale, perché c'è una legge in Russia per cui non si può dire guerra in relazione a questa offensiva di Putin? Lo sapevo che avrebbe fatto questa domanda, come l'altra sua collega che mi ha fatto la stessa cosa. Non si arrabbi, le domande in democrazia si fanno. È una pura provocazione. Vi è una dichiarazione di guerra? Esiste una dichiarazione di guerra? No, ma io, la mia domanda era un'altra. Lei può farmi... Senta, mi scusi, noi qui siamo abbastanza democratici, quindi se mi fa fare la domanda... Mi faccia fare la domanda, mi faccia fare una domanda. Stia calma, le voglio fare la domanda. Io dico, lei come valuta? Non le voglio dire se è una guerra o non è una guerra. Io le voglio dire, lei come valuta un paese che se un giornalista usa la parola guerra lo manda, prevede una condanna fino a 15 anni di reclusione? Le sembra un paese democratico? Ma ci sono persone che già sono state detenute per 15 anni, condannate a 15 anni? Avete appena messo la legge. C'è una legge, però. C'è una legge. L'avete appena introdotta? Nietta cosa qua. Non c'è questa legge. Nietta cosa. Non esiste questa legge. No, ma infatti qualcuno l'avete ucciso, signora, in passato. Infatti qualcuno l'avete ucciso, cara. Mi dispiace dover chiamare collega, perché lei è semplicemente la portavoce del Cremlino, gentile signora. Lei è la portavoce... Quindi quello che Formigli sta facendo è fondamentale, perché tra qualche anno, quando studieremo questa guerra, lei diventerà un reperto storico e diventerà una fonte primaria di informazione per capire cosa fa la propaganda del regime. È come parlare con il Cremlino, ma va benissimo, lei non è una giornalista. Lei è una giornalista della TV di Stato, cioè una giornalista di Putin, signora. Lei è una giornalista di Putin, signora. Ma mi avete chiamato perché? No, 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 ha ragione, ha ragione, ha ragione, ha ragione. No, ha ragione, su questo ha ragione, nel momento in cui è stata invitata... Certo, no, 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 ci mancherebbe altro. Il punto è questo. Allora, facciamo così, raffreddiamoci un attimo e calmiamoci un secondo su questa questione qua. Io vorrei, dal professor Cassetti... Poi però guardate e diranno, guardate gli italiani che attaccano i russi, contro un corrispondente russo. Io sono venuto da voi ospite, mi avete invitato voi, non sono entrata io a casa nostra. Assolutamente, assolutamente. Allora, facciamo una cosa, facciamo una cosa. Diamo ora la pubblicità perché così...